Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi continueremo con il quel che accade a novembre visto che ormai siamo a dicembre e scusate se non ho fatto altri video la settimana scorsa ma sono stata tipo un autore di peste bubonica e quindi non sono riuscita a farne neanche uno ma cominciamo subito con la top ten, no non è top ten però, con quel che è accaduto a novembre cominciamo subito con l'outfit lolita del mese e l'outfit lolita di questo mese è questo vestito di cui vi parlerò approfonditamente in un video separato però è questo l'outfit lolita del mese è sempre questo vestito che ho fatto io praticamente e vedrete meglio nei dettagli poi come vi ho già detto nel prossimo video poi continuando andando avanti c'è il make up del mese che purtroppo è un mega 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 bocciato perché è questo diciamo gloss qua lo annuncia come un gel tint però è tipo non so è una cosa che è stranissima ma sarebbe utile sapete per cosa si potrebbe usare per fare del sangue finto perché è tipo un lucida labbra dovrebbe essere o comunque una tinta in gel solo che è tipo liquidissima non colora niente e mi ricorda un po' i... no ricorda un po' i... i blush diciamo in gel per le guance e invece questo è per le labbra solo che sulla confezione dice che dovrebbe diciamo durare a lungo solo che questo non dura niente tipo mezz'ora ed è sparito completamente e oltretutto ha un sapore orribile io non riesco proprio a usarlo appunto per quello per il suo sapore perché è proprio... è osceno cioè non comprate adesso lo vedete state lì alla larga e questo è il gel tint di Essence nel numero... ha un numero 02 Deep Red che vedete la confezione non vi dà assolutamente questo colore lo potrete usare al massimo per del sangue finto ripeto quindi bocciatissimo l'accessorio del mese sono le rose finte come potete vedere io ne andosso qua però adesso sono... è il periodo in cui mi sono davvero proprio impallata con le rose e quindi ne sto comprando un sacco rose soprattutto nere ne ho anche rosse però non ne ho ancora usate poi il gioco del mese, il videogioco del mese è Dante's Inferno in realtà ci ho giocato all'inizio quindi l'ho già finito ed è praticamente un God of War se avete giocato a God of War questo è uguale ma in chiave dantesca molto carino, è abbastanza... è simpatico non è particolarmente difficile se ci ho giocato io ci possono giocare tutti visto che io non sono particolarmente brava in ciò che non è RPG la prossima categoria è la serie tv la serie tv di questo mese per me è Sleepy Hollow se non l'avete visto guardatelo perché magari all'inizio la prima serie non è... cioè non la prima serie i primi episodi magari non sono tanto... non prendono forse però a me è piaciuto molto anche in seguito mi piace un sacco l'attore che fa il vecchio diciamo se andate avanti lo vedrete che è praticamente John Noble mi pare che sarebbe l'attore che ha fatto anche Fringe che ha fatto Walter è davvero un bravissimo attore secondo me riesce a immedesimarsi nelle parti proprio in maniera eccellente e poi mi piace un sacco anche l'attore che fa il Cabot Crane è davvero... davvero molto bravo anche lui mi piace un sacco ma andiamo avanti la categoria di questo mese degli anime è Tokyo Magnitude 8.0 è un bellissimo anime che parla praticamente di ciò che potrebbe accadere durante un terremoto appunto di magnitude 8.0 a Tokyo e parla di questa bambina e il suo fratellino che praticamente devono tornare a casa loro dei loro genitori è davvero molto molto bello e anche molto triste per come finisce purtroppo ma non vi sto qui a spoilerarvi tutto il finale però è davvero molto bello andiamo avanti con la categoria di questo mese delle decorazioni le decorazioni che ho a parte quelle di Natale che se volete le faccio un video a parte perché ne ho messe così tante che sono infinite comunque la decorazione di questo mese in realtà sono due una è questa che avete visto probabilmente nella mia pagina Facebook è una gabbietta con su scritto rosa in metallo è praticamente un portacandele funziona così sotto si gira qua ha dei gancetti non so se potete vederli quando lo girate ci sono dei cosi per uscire e voilà è davvero molto carina anche se ogni volta poi devo stare lì a mettere e togliere però è davvero molto carina la seconda decorazione in realtà è questa è una boccetta che ho trovato in un negozio di quelli è tipo tutto a un euro ed è bellissima è blu io adesso dentro ci ho messo l'acqua di rose col tappo così in sughero ha delle cose in rilievo tipo adesso non mi viene in mente come si chiamano però sono quelle decorazioni tipo gigli se non sbaglio forse qua così è troppo bellina molto molto carina anche perché poi si abbina visto che tutta la mia camera è sui toni del blu si abbina perfettamente alla mia camera poi il film del mese stiamo arrivando alla fine il film del mese sono i Cruz e questo l'ho comprato da poco l'avevo già vista al cinema ed era davvero molto carino fa molto ridere fa molto ridere è simpatico arriviamo all'ultima categoria ovvero quella dei canali e il canale di questo mese è Doru House ovvero è il canale di una ragazza anche lei Lolita che parla di shopping e cucina da poco ho fatto un video sugli onigiri davvero davvero molto esaustivo infatti io l'ho guardato perché mi piace un sacco le cose di cucina è davvero molto molto brava è davvero una ragazza molto simpatica ciao Serena e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.